Sì, non mi parte mai questa cosa, sembra tre ore e mezza, picciata. Sì, non mi parte il motorino, non mi dire niente. Potremmo parlare un momento. Sì, non mi parte il motorino, per favore. Tu non fai uno strappi, venga la macchina là. Così magari ci facciamo i rechiacchi. Scusa, ho capito, chi sei? Non mi dire niente. Lo dicevano che venivi oggi. Io pensavo che eri così. Scusa, ma così come? Eh, ma trattate tutto l'accento, eh. Hai capito a voi l'Atalanta? Non mi fate scoprire. L'Atalanta? Senti, la cosa di oggi è un'eccezione, perché io di solito sono più tranquillo. Veramente. Mi ha detto che c'eravate voi, allora ho detto che ero un po' stressato, capito? L'osservatore del Napoli. Ma veramente sono più tranquillo. Tranquillo che ti credo? No, mi fa piacere. Ma però l'altra volta hai fatto a botte. No, vabbè, perché mi diceva che ero un figlio di papà. No, i ricchi non avevano il tuo pallone. E allora io ci dico che è pirlo. E che non è niente con di mano. E pirlo non ha mai fatto da nessuno, però. Eh, infatti non sono pirlo. Va bene, amore, è il suo passaggio. Vieni, Asati. Grazie. 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 Grazie.